Al Tribunale di Taranto resta chiusa temporaneamente per la giornata di oggi la sezione lavoro e rinviate di conseguenza anche le udienze già fissate. A deciderlo è un documento che porta la firma della presidente Rosanna De Palo a causa dell'accesso in quei locali nella serata di ieri di un consulente risultato positivo al test covid-19 come lui stesso ha poi comunicato al direttore amministrativo della sezione disposta alla sanificazione dei locali